Ancora sangue sulle strade a perdere la vita attorno alle 5.45 di oggi, Ferdinand Giuzzi, 47enne albanese, residente a Padova. L'uomo si trovava al volante della sua Opel Corsa, percorrendo la statale 47 Valsugana, giunto in località Vaccarino, in frazione di Piazzola sul Brenta, ha sbandato e si è schiantato contro un mezzo pesante condotto da un 55enne che giungeva dall'opposta corsia di marcia. Un impatto tremendo, nello scontro l'auto si è completamente distrutta mentre il furgone è finito in un fossato al lato della carreggiata. Per Giuzzi non c'è stato nulla da fare, inutile ogni soccorso da parte dei sanitari del SUEM, sul posto anche i vigili del fuoco di Cittadella, per estrarre dall'abitacolo il corpo ormai senza vita del 47enne, identificato solo in tarda mattinata perché con sé non aveva documenti. Al vaglio dei carabinieri di Piazzola la dinamica del drammatico sinistro, chiusa temporaneamente al traffico la strada, fino a che i mezzi non sono stati rimossi, la viabilità ha subito forti rallentamenti, si sono formate colonne lunghe più di 5 chilometri.